Un saluto dal Tg della mobilità. Da domani e sino al 26 di novembre per lavori di sostituzione di 11 deviatoi d'ingresso alla stazione Termini, alcuni treni delle linee ferroviarie Roma-Castelli-Colleferro, Roma-Ladispoli e Roma-Latina-Minturno-Nettuno non arriveranno né partiranno da Termini, ma dalla stazione Tiburtina o Ostiense. I treni interessati da questa modifica in dettaglio sono su romamobilita.it.